Uno che non ha visto la partita dice Vabbè l'Inter ha vinto 5-0 Stradominato, strameritato Invece no, invece no Questi si sono fatti prendere appallonate dal Frosinone Se voi date vedere le statistiche Ci sono 20 tiri del Frosinone Tipo 10 dell'Inter Non sanno manco loro come hanno fatto Luigi oggi Prima in classifica che soffre con l'ultima in classifica Rendetevi conto di come hanno vinto il campionato questi qua Rendetevi conto Sempre detto che il Milan è 100 volte più forte Di questa piccola Inter E se avessimo vinto un allenatore semidecente Sempre detto L'avremmo vinto noi il campionato a mani non basse Di più Di più In interisti Noi per lo scudetto ci siamo ancora Perché vi ricordo che siete indagati Sempre questo Se avessimo avuto un altro allenatore Ma come? Io spero Ma Pioli è il Milan Pioli è la vostra vita Pioli è Ma Marameo Dove è Marameo? Marameo? Che Hehehehehehehehe